Real Madrid-Juventus, quarti di finale, programmazione TV dell'11 aprile Dopo l'incredibile rimonta della Roma con il Barcellona, oggi 11 aprile Real Madrid-Cancelletto Juventus si sfideranno per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Un compito non certo facile per i bianconeri chiamati a recuperare il secco 3-0 subito all'Allianza Arena dagli Spagnoli, anche grazie al gol di Cristiano Ronaldo. Destinato a restare negli annali della storia del calcio. Sarà possibile assistere a questa imperdibile sfida anche in chiaro in Italia? Scopriamo di seguito la piacevole novità che Mediaset ha concesso ai tanti tifosi della Juventus. Diretta Real Madrid-Juventus, dove seguire il match in chiaro. Real Madrid-Juventus andrà in scena questa sera 11 aprile a partire dalle ore 20.45 e, come accaduto per i precedenti match di Champions League. Potrà essere seguita in diretta su Premium Sport, canale dedicato agli abbonati di Mediaset Premium. Il Biscione ha inoltre deciso di concedere la stessa sorpresa fatta ieri 10 aprile ai tifosi della Roma. Anche la partita che avrà luogo al Santiago Bernabeu. Infatti, verrà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5 e sarà visibile ai non abbonati al pacchetto Premium. Una scelta che ha certo causato numerose polemiche da parte dei tanti abbonati, che ora si sono visti improvvisamente venire meno i loro privilegi. La telecronaca dell'imperdibile evento sarà effettuata da Pierluigi Pardo con Massimo Pagani in seconda voce. Mentre a bordo campo saranno Francesca Benvenuti e Massimo Veronelli a raccontare i dettagli dell'atteso match. Quarti di finale Real Madrid-Juventus, diretta streaming video. Chi non avrà la possibilità di seguire in televisione la sfida dei quarti di finale di Champions League. Potrà comunque restare informato sugli sviluppi del match grazie al sito web di Mediaset. Partita e post partita saranno, infatti, visibili anche in live streaming gratuito sul sito e sull'app Sport Mediaset. In attesa di seguire il match, sperando nella clamorosa rimonta dei bianconeri, vi segnaliamo anche la partita di Europa League tra Lazio e Salisburgo, in programma giovedì 12 aprile. In questo caso è Sky ad avere l'esclusiva dell'evento e la piattaforma a pagamento non riserverà la stessa sorpresa ai non abbonati. La partita verrà trasmessa in esclusiva solo per i clienti Sky e andrà in onda in diretta giovedì 12 aprile a partire dalle ore 21 e 5 su Sky Sport 1 e Sky Sport Calcio. Grazie a tutti!